20 ore l'alte Guarda, guarda, guarda! Grazie in allia ragazzi! Valla a rubare! 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 Qua non pensi... Andate via! Andate via! Oltre la stamba via! Andate via! Se non dà un papino che devi mangiare tu! Mi devi mangiare tu! Valla via! Valla a rubare! Vai! Valla a rubare! Andate via! Attenzione, attenzione! Andate via! Grava, grava, grava! Siamo tranquilli! Noi iniziamo a rubare! Siamo tranquilli! Noi venire a provocare noi! Non venire a provocare noi! Andate via! Andate via! Tranquilli qua! Io devo mangiare tranquilli! Non mi lavoro mai! No! No! Dal mio pezzo di pollo lavoro! Calma! Calma! Io credo che la mia figlia si faccia questo lavoro! Io dici anni che ti ho prenduto il freddo qua, ti ho preso il freddo! Che devo dire? Non lavoro questo! Ma non c'è la famiglia loro! Cosa mangio? Io devo andare a casa! Tu puoi mangiare! Per quanto cosa tu puoi mangiare allora io? Tranquilli ragazzi! Il freddo! Il freddo! Il freddo! Non c'è la mia figlia! Non c'è la mia figlia! Vai comprare il freddo e io le metto sulla terra! Se mi attesta! Guarda cosa ha fatto! Guarda! Guarda! Cosa c'è la mano io? Cosa ha le mani? Adesso vedi a prendere pensionati! E qualcuno vuole qua! E' giusto! 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 qua, tranquillo, non lo facciamo andare a fuoco, senza parole.